Il mondo attorno a noi è in continuo movimento. Per capire questi movimenti non basta conoscere le grandezze matematiche che descrivono la natura, e cioè le funzioni. Bisogna anche sapere come le funzioni variano. Per esempio, non basta sapere la posizione di un treno, bisogna conoscerne anche la velocità. Non basta conoscere la velocità di un razzo spaziale, bisogna conoscerne anche l'accelerazione. Allo stesso modo, oltre alla funzione che descrive la concentrazione di una sostanza radioattiva, bisogna anche conoscere la velocità del suo decadimento. Per sapere come le funzioni variano, bisogna calcolarne le derivate. La derivata è quindi uno strumento fondamentale in matematica e nelle sue applicazioni. Di solito, si impara a conoscerla negli ultimi anni delle superiori e la si approfondisce al primo anno di università, per poi incontrarla di nuovo in corsi più avanzati, quando si studiano le leggi che descrivono la natura, e cioè le equazioni differenziali. Questo corso ha lo scopo di insegnarvi a calcolare le derivate, ed è quindi adatto sia per le superiori che per l'università. Durante il corso impareremo non solo le regole che permettono di calcolare le derivate, ma anche come applicarle, partendo da esempi ed esercizi. Che siate studenti alla prima avventura con il calcolo differenziale, o matematici in cerca di una fresca prospettiva per insegnare il calcolo delle derivate ai vostri studenti, questo corso ha qualcosa per voi. Tutto quello che dovete già conoscere per seguirci sono i concetti di funzione e di limite e le funzioni elementari. Per il resto, con uno stile dinamico e vivace, vi accompagneremo in un apprendimento che è tanto istruttivo quanto, speriamo, coinvolgente. Che aspettate? Iniziate a derivare con noi!